Nuovo appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura una tragedia che si è verificata ieri pomeriggio ad Acireale nella frazione di Santa Maria la Scala, mentre due fratelli tunisini facevano il bagno complice la bella giornata di sole nei punti dove comunque si riusciva a toccare, il fratello maggiore, un 27enne di nome Bugaraf Ashref, veniva trascinato dalle forti correnti di quella zona. Purtroppo il ragazzo non sapeva nuotare e nonostante l'immediato soccorso di alcuni residenti scompariva tra le acque, dunque malgrado l'intervento dei vigili del fuoco e della guardia costiera non c'è stato nulla da fare se non il recupero del corpo avvenuto qualche ora dopo. E passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un 44enne di Taormina, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio provvedendo a fermare diverse auto in transito sulla strada statale 120 nella frazione di Rovitello. Le operazioni di verifica effettuate al posto di controllo opportunamente dislocato al bivio etna settentrionale hanno riguardato tra gli altri il 44enne che transitava a bordo della propria autovettura unitamente alla madre. L'uomo si è dimostrato immediatamente agitato probabilmente per la presenza anche della madre che ha riferito di dover accompagnare presso alcuni familiari. Ha spontaneamente consegnato ai militari, prevelevandolo dagli slip, un involucro di plastica termosaldata contenente circa 50 grammi di cocaina. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la sottoposizione all'obbligo di dimora nel comune di residenza. E continuiamo con la cronaca, passiamo ai carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania che hanno denunciato un 32enne del posto indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di porto e detenzione illegale di armi. Nel pomeriggio i militari controllavano con attenzione Piazza Marconi laddove hanno notato uno strano e sospetto via vai. Nella circostanza è stato valutato di sottoporre al controllo tra gli altri il 32enne mentre si trovava a bordo di un'autovettura Citroen C3 unitamente ad un suo conoscente. Andrabbi giovani si sono dimostrati visibilmente agitati ed insofferenti alle verifiche in corso, in particolare il 32enne probabilmente per timore a che ha spontaneamente consegnato quattro dosi di cocaina dopo averle prelevate dai calzini. Poco dopo non appena ha appreso che i militari erano in procinto di ispezionare la propria auto ha ammesso di essere in possesso di altra cocaina ed ha così consegnato, prelevandolo dal vano portaoggetti dell'auto, un altro involucro contenente una dose della stessa sostanza. E passiamo al rinvio tecnico di 24-48 ore definito dallo stesso Benedetto Mancini. slitta dunque ancora la firma per quel che riguarda il rogito d'acquisizione del ramo sportivo d'azienda dell'ex calcio Catania e mentre aumenta l'attesa dei tifosi e della squadra rossazzurra fremono in attesa tutti quanti di un futuro che sia di cambiamento per ciò che hanno patito negli ultimi anni. E con questo era tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo che trovate tutti i nostri approfondimenti sulle pagine Facebook, Globus Magazine e Globus Television. Vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.